Sono medico chirurgo, lavoro con l'Ante da 5-6 anni ormai, ho tre figli, perlomeno cresco tre figli e lavoro in questo territorio che è la zona della pianura di Bologna. Quindi a gennaio 2008 ho iniziato a lavorare con l'Ante e pian piano mi sono innamorato di questo lavoro. Il primo giorno che sono entrato in Ante è stato un giorno in affiancamento insieme a una collega ed è stato incredibile vedere come dentro le case si possono assistere i sofferenti. A domicilio i pazienti ridurre il dolore, era qualcosa di sconvolgente, per me che avevo visto solo esperienze di reparto. Oggi penso che al domicilio si possa fare veramente tutto e ho capito come si fa. Si può garantire la salute, si può garantire il benessere e la dignità dell'esistenza senza daversi spostare in un luogo di transizione, che può essere l'ospedale, e una struttura anche ad hoc.